Benvenuti nella nostra scuola superiore per mediatori linguistici Columbus Academy di Roma. Situata al centro di Roma vi accoglierà in una struttura ampia con aule luminose in cui un team di professori vi accompagnerà durante tutto il percorso universitario con passione ed edizione. Il punto di forza della Columbus Academy sono gli indirizzi di studio professionalizzanti in ambito criminologico, sportivo, economico, diplomatico, marketing e no gastronomico in management. Igual alla forma dell'infinitivo sostituendo r-conte. Un mélange di fruisec. Indirizzi di studio che consentono di applicare le tecniche di mediazione e di interpretariato nei diversi settori professionali con acquisizione di conoscenze settoriali avanzate. Le nostre elezioni di lingua sia in presenza sia online sono tenute da docenti professionisti nei campi della traduzione, della mediazione e dell'interpretazione. Lo studente viene accompagnato e guidato dai nostri tutor e indirizzato nel mondo del lavoro. Avrà anche la possibilità di fare esperienze all'estero con il Rathmus oltre che con tirocini e stage curriculari e extracurriculari. La laurea triannale in mediazione linguistica è la laurea giusta per chi ama superare i limiti del proprio mondo ed è spinto dalla curiosità di entrare in contatto con nuove lingue e culture. I nostri studenti approfondiscono in un ambiente stimolante e sempre attento alle esigenze del singolo lo studio delle lingue unendovi la passione per uno dei settori di indirizzo offerti dalla Columbus Academy. L'aeroporto più vicino all'hotel Impero. Studiare nella nostra scuola superiore per mediatori linguistici significa diventare esperti nel mondo delle lingue con competenze professionali nel settore di indirizzo scelto. Puede llegare all'aeroporto tomando le linee ferroviarie C2 e C4. Grazie molto Yasser per la tua esplicazione sulla preparazione del baclava. Prepariamo in questo modo i nostri studenti alle richieste del mercato del lavoro in cui le lingue si producono in attività professionali qualificate e di alto profilo nella figura di traduttore e mediatore linguistico. È da Roma che parte il vostro viaggio alla scoperta del mondo. La Columbus Academy è al vostro fianco. A voi basta di spiegare le vele. Noi vi indicheremo la rotta. Aurora Suomen si chiunque La data superiore. Noi vi podem chiederemo la ricetta del mondo. Nuvi il mio paveoria. Noi vi pallino il campano rigolito che năm ben你看то per Abrigatina. Noi vi